Dentro! 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 Basta che è il vino! Ma che è sta cosa? Guarda, guarda, guarda che è lì! Franco! E' il fracco, è lui! E' il fracco, è 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 il fracco. E' il fracco, è il fracco, è il fracco, è il fracco, è il fracco! Ecco, sono i fransi, sono i francioli! Oh! Io devo portarmi i francioli, un bello miro! Bruttele so regalo da parte del mio fratello della Presidente! Sì, Martire, la Ngahara, Giala, il Baggio,pertanto! ma la data giacomo non lo trovo alzura e' altra questa è martino e l'alessia ah eccolo oh oh piano 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 ma non è finito, sono fuori i p***i astro, t'ha matto oh oh oh, silenzio ragazzi, silenzio Mauro, devi portare la tua macchetta la fotografia oggi, stasera ti ho faiare ragazzi, silenzio quando t'ha matto? eh, sono tutto io e te t'ha matto veramente non mi vorresti bene pure eh, che ce ne è fai uno schiappo sulla casa da rocce tu non sei inflexibile, bro ma quanto è spigoloso il muro? ma quanto è sbrutto e la famiglia, era brucississima sto facendo un video, sto facendo un video era brucississima guarda che fa ma c'è sempre il video, il video che il video che, il video, il video Tommy che ho fatto a te a te Anish, a casa di Anish quando mi avevamo ballato ho girato tutta l'Italia, sento un ci crede, su Youtube? no, su Facebook è su Youtube? ti ho caricato su Youtube? io tu te cose le sopporti no lo io chiamo chi ho mandato io chiamo chi ho mandato il video che vuol fare no, io chissi io mi chissi no, ma io no bello bello non è l'amore della figa la raga guarda, fai le telefonate quelle serie, cappe devo metterla d'osso nuca bene, maglietta, una pezzo e quarantanea fai come una, tirarmeli un pezzo una maglietta, una pezzo questa è ciudad del rosso ciudad del rosso ma che sono le telefonate losche, cappe? ciudad del rosso Rosso, io ti consiglio rosso, te ne sотрono ma questi fa le telefonatelo, variabili mi ha messo così brutto rosso 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 di rosso 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 Mel e se non io beneниковo ti amo o riprendità anche tu riprendite bucciato ok ok per fare la mia pagina a un paio di tanto bene per il corpo per il periodo in grado perché io mi chiede le mani no, il l'antica dietro il mio orecchio come dietro ogni barba di cattore c'è un pugno io quando voglio detto che ce l'ho la mia ora e la nostra parere quindi tutte le sere io ho ioi esatto l'iphone io ho ioi io ho ioi un po' la mia managgia la forza ma non ho la parola e io ho andato la parola ahahahah parat万 euro un paese dei concerns la uomhali belloni inglesi quant'è mer dry gastronomia Melbourne Commander 4